ok come potete vedere questa è la home page di bujin television ci sono diverse categorie i video rilasciati più recenti come potete vedere ce n'è di diversa natura i video raccomandati ad opera dei maestri okinawensi internazionali famosi i seminari seminari sia appunto svolti a okinawa che in occidente registrati e caricati completamente e integralmente sulla piattaforma kata e bunkai sia di karate che di kobudo ci sono vari stili sia okinawensi che giapponesi c'è anche lo shotokan poi abbiamo podcast realizzati sempre con vari maestri di spicco o personaggi comunque interessanti tra cui anche alcuni capiscuola sia okinawensi che occidentali anche in questo caso poi abbiamo la sezione dedicata ai documentari e alle interviste alcuni di questi video come potete vedere sono video che trovate già su internet su youtube altri invece sono caratteristici di questo sito non li trovate quindi altrove come dicevo alcuni sono esclusivi invece di questo sito potete vedere maestri di spicco senaga sensei rakaki sensei iha sensei nakazane sensei kenyu shinen sensei tutti i maestri di un certo calibro e di una certa rilevanza all'interno del mondo del karate di okinawa poi abbiamo la sezione dei tutti i video che sono stati registrati interamente o comunque sono ambientati interamente all'okinawa anche qui a opera sia di maestri occidentali che di maestri per lo più okinawensi abbiamo poi la sezione training fitness dedicata ovviamente alla parte del karate un pochettino più moderno più sportivo quindi ci sono tutta una serie di video che insegnano determinati esercizi dedicati a questo mondo per ultimo la parte exclusives dove troviamo dei video esclusivi di questo sito video che andranno aumentando sempre di più al momento ci sono 200 video sul sito alcuni sono video esclusivi riservati altri invece sono video che trovate anche su altre piattaforme con il tempo aumenteranno tutti quanti in particolare quelli che troverete solo esclusivamente su buji television al momento molti video sono in inglese qualcuno in italiano verranno caricati più video in italiano verranno anche caricati video in diverse lingue per venire incontro alle diverse persone come potete vedere partecipano al progetto persone molto importanti come Patrick McCarthy Jesse Enkamp diversi maestri okinawensi insomma c'è veramente l'imbarazzo della scelta nonché un'altissima qualità i video sono quasi tutti e metto il quasi perché chiaramente ci sono anche dei video storici che non possono essere in alta definizione sono quasi tutti in full hd o in 4k addirittura quindi la definizione è veramente 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 alta c'è l'imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda l'offerta tecnica passiamo veramente da tutti gli stili che pian piano andranno anche aumentando le applicazioni dei vari maestri i kata le varie maniere di eseguire appunto un'applicazione un bunkai un kata da parte delle varie scuole ovviamente come potete vedere c'è anche il kubudo cosa molto importante c'è addirittura il sumo di okinawa il cosiddetto shima o tegumi un'altra cosa spesso sottovalutata ma di grande importanza per la tradizione okinawensi al pari del karate del kubudo tutto questo realizzato su una piattaforma moderna fatta bene a mio avviso di altissima qualità vediamo ad esempio come si vedono i video ne apriamo uno mio così non andiamo a rompere le scatole agli altri autori come potete vedere c'è una breve presentazione poi parte il video si può prendere si può visionare anche a schermo intero sono le classiche funzioni sotto trovate dei video correlati o cliccando sul nome dell'autore c'è una breve biografia e i video caricati dall'autore c'è anche un'ottima funzione di ricerca in alto vicino al logo ad esempio proviamo a cercare diversi maestri e vedete che semplicemente digitando il nome compaiono i video dove questi maestri sono presenti o comunque video dove questi maestri come nel video che ho qua a destra sono citati o comunque video correlati alla persona che abbiamo ricercato vediamo anche okama jesse encamp qua ci sono anch'io una casa una sensei e via discorrendo che dire è una piattaforma un sito che in questo periodo dove purtroppo ci troviamo spesso obbligati a allenarsi da soli a casa e soprattutto dove non possiamo affrontare i viaggi che ci permettono di andare ad allenare di andarsi ad allenare in giappone okinawa è una piattaforma molto gradita e ripeto fatta bene intuitiva e con un costo molto contenuto se paragonato alla qualità inoltre oltre a tutto questo avete chiaramente la prova gratuita di sette giorni non vincolante quindi dopo i sette giorni potete cancellarvi dal sito senza vedere nessun addebito oppure in aggiunta noi autori possiamo fornirvi dei codici che vi permettono l'accesso gratuito per un mese intero questo chiaramente verrà dato solo un numero limitato di persone quindi chi fosse interessato deve iscriversi a questo canale youtube e mandare la richiesta dopo essersi iscritti chiaramente tramite messaggio sulla nostra pagina facebook quindi iscrivetevi mandateci il messaggio e riceverete il codice promozionale che vi darà accesso a questo sito gratuitamente per un mese grazie a tutti grazie a tutti